Buongiorno, benvenuti in Confindustria Cuneo. Un saluto ai nostri relatori, un saluto al nostro pubblico. Oggi il tema è un tema core della nostra attività, ma non soltanto dell'attività di Confindustria. Il tema del lavoro è al centro delle riflessioni di una società che evolve in maniera molto veloce e che c'entra proprio sul tema del lavoro i driver di sviluppo, di sviluppo sostenibile, di sviluppo inclusivo. Ma la storia che vi vogliamo raccontare oggi è anche la storia di un uomo che ha anticipato il cambiamento, che è Marco Biagi. Ma chi era Marco Biagi? Io penso che la migliore descrizione che ho trovato leggendo alcuni libri dei relatori che oggi sono presenti con noi l'ha fornita la moglie Marina Orlandi, con lei che tiene viva la memoria di Marco Biagi con la fondazione a lui dedicata. Le parole della moglie sono queste. Proprio nei giorni in cui è stato ucciso ricordo che Marco mi parlava di una cosa che riguarda i ragazzi. Era consapevole che la società si stava trasformando e che un lavoro per tutta la vita, lo stesso lavoro a tempo indeterminato, sarebbe stata una cosa praticamente impossibile. Sarebbe arrivata tardi nella vita delle persone. Aveva in mente che bisogna difendere i lavori brevi. Purtroppo ci sarà questa precarietà, diceva Marco, però dobbiamo renderla una precarietà protetta. Fare in modo che le persone che non hanno un lavoro protetto abbiano anche dei diritti, siano tutelate, che una persona non possa trovare solo un lavoro in nero. Sta proprio in queste parole la novità rivoluzionaria del contributo di Marco Biagi, nel rifiuto di considerare delle deviazioni, delle violazioni di un ordine superiore, quei rapporti di lavoro non riconducibili a un contratto a tempo indeterminato. Con annessi e connessi però sul piano delle tutele. E per questa convinzione incontrò quella ostilità che ne fece un simbolo, un uomo da bruciare, perché voleva regolare anche sul piano dei diritti quei rapporti non standard che nel pensiero di una parte estremista dovevano essere vituperati, interdetti e aboliti, perché erano considerati un cedimento ai padroni e non un'esigenza del mercato del lavoro, che pretendeva flessibilità in entrata, attraverso nuove regole, e in uscita, superando il dogma dell'articolo 18 dello Statuto. Oggi dobbiamo prendere atto, purtroppo, del rischio che il diritto del lavoro si avvii ad abbandonare il principio della libera contrattazione e a essere imposto dalla legge. Persino per quanto riguarda l'aspetto fondamentale e originario del negoziato sui salari e sulle retribuzioni. Il nostro timore, e non solo nostro, è quello che si ceda ad una vera e propria nazionalizzazione del diritto del lavoro, a cominciare dal tema dei salari. E sarebbe un errore fondamentale quello di voler intervenire con leggi sulle materie e sulle regole del lavoro, pensando che solo da queste, cioè solo dalle regole, scaturisca una maggiore crescita e una maggiore occupazione. Il pericolo è quello di riforme, spesso calate dall'alto, con misure legislative che invece dovrebbero affermarsi nel confronto e nel negoziato autonomo e libero tra le parti sociali, imprese e lavoratori, nel nome del more jobs e better jobs, come scriveva Marco Biaggi nel suo libro bianco. Buon lavoro.